Buongiorno a tutti Anche oggi in partenza Per un'altra città Mi ami? Mi ami o non mi ami? Miami E qua c'è Giordano Ascolta musica e cala testa tipo Sisi Hai ragione Non so neanche chi lo fa Qua c'è Piero Chi è? Peri scoppiati La seconda puntata Buongiorno Aspetta conseguentemente che fare pace natura Aspetta Stavo pubblicando Devo mettere questa foto Aspetta Ragazzi questo viaggio è tutto ammazzato Guardate che brutte che sono Guardate Mi piace pubblicare questa foto Ma chi c'è pizza Heading to Miami Ma chi c'è pizza le valigie scusa Le mie compagnie di viaggio Ma pubblica la faccia tua La faccia tua vogliono vedere le persone Non le valigie E allora faccio il selfie Aspetta che faccio il selfie Ecco Aspetta Come fai il selfie In procinto di una pubblicazione Ecco Giustamente Come? Arrivo Guarda Barbara Guarda che piove Figa Vedi che figa Ecco Vedere Ti piace o non ti piace? Non ti vedo convinto Vediamo Dove? Ti piace o non ti piace? Dai ci sta Ci sta Cominciamo ora Quattro volte a fare foto Ogni volta Ma vuoi che ti prenda centrale? Si centrale Ecco 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 Fra un po' La vedrete su Instagram Questa foto Credo che è convinto Saluta ai prescoppiati Ciao a tutti Ascoltando Tiziano Ferro Ecco giusto giusto Tiziano Ferro Bravo Barbara Dì ciao Barbara sta facendo i check out E' sempre arrivo e mai Partenza Un regalo mio chiuso La versione siciliana Un regalo mio chiuso Mena Questa ti piace di più Questa Questa Oppure O questa O questa O questa di qua Sono uguali Una frontale e una di profilo Vediamo Questa qua è più figa Si Aspetta perché corrisci Ah! Io mi parlo in inglese Mi sono solito Perché ovviamente Non ci sono solo persone Da me in Italia Ma da me Periscopiare Periscopiare Ok Ciao 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 look my sweater Italia, l'unica cosa che ho trovato all'aeroporto di Milano a me questo periscopo ci ho preso, ci ho preso questo periscopo, ti piace? il prossimo anno invento io cose, mele scoppiate a posto di pere, i mele ti salutano Barbara ciao a tutti, ciao ciao ciao, sì però dillo anche in inglese, scusami hi everybody, because there are people from Belarus, Portland, there's a van outside, there's a van outside quindi vi mandiamo un saluto perché c'è un van outside che aspetta a noi, ciao da Trapani, ciao saluto a Marzal e c'è un van che aspetta, there's a van waiting for us outside, we're going to Miami, detto in gergo proprio siciliano Miami e ci vediamo, ci vediamo più tardi, ciao a tutti, a shanté, au revoir, bye bye, big kissy, ciao allora come si fa a studiare il cavolo, aspettate un attimo, allora si va verso in basso e poi si fa interrompere la trasmissione ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, from Venezuela, from...